ciao a tutti amici di youtube bentornati sul mio canale eccoci ancora qui su infinity games ragazzi questo è un video giusto per aggiornarvi sulle ultime novità ed è giusto che voi appunto lo sappiate quindi ragazzi partiamo subito sparati epic games ragazzi scaricate la piattaforma di epic games che sicuramente molti di voi già sapranno farlo se non sapete come farlo basta andare semplicemente sul motore di ricerca google e appunto scrivete epic games download e lì troverete tutte le indicazioni disponibili allora ragazzi andate su un negozio e vi troverete gratis qualcosa di davvero interessante cioè abbiamo la possibilità di scaricare in questo istante ragazzi e vi raccomando non è che avete tutto il tempo perché è disponibile solo fino al 26 settembre avete la possibilità di scaricare sia tutta la collezione di batman che ha giocato a questo titolo ragazzi è qualcosa di eccezionale e chi non l'ha giocato io ve lo consiglio davvero tanto di giocarlo perché è bello è bello sotto tanti punti di vista non solo a livello grafico per quanto riguarda i testi la storia che è molto avvincente ma è proprio bello così come è stato realizzato quindi con tutte le dinamiche di gioco ciò che puoi sbloccare li collezionabili trofei che possono essere trovati insomma ragazzi è una storia da vivere e poi a chi piace invece giochi un po più leggeri diciamo più leggeri perché ne ho fatto uno di questi qui ragazzi in alcuni momenti anche un po complicato però è un gioco sicuramente dove non bisogna stressarsi chissà quanto quindi anzi sono giochi abbastanza rilassanti ed è appunto la trilogia di batman lego quindi come possiamo vedere tutto dedicato a batman con questo grande personaggio ma non è l'unica cosa ragazzi uplay allora ragazzi notizie di uplay scaricate anche qui chiaramente questa applicazione da ubisoft allora ragazzi qui appena lo trovo ve lo faccio vedere ecco qui allora ragazzi uscirà una nuova beta di ghost record breakpoint dal 26 settembre al 29 settembre è una beta ragazzi da come ho capito giusto per farci un'idea di quello che sarà il gioco ma anche se secondo me l'abbiamo già visto con la beta precedente qui c'è anche un piccolo trailer ma è un trailer che non fa altro che appunto fa vedere dal vivo ecco come si muovevano i ghost diciamo che un trailer tipo film quindi chi lo vuole venire a vedere chi lo vuole vedere basta che va qui e se lo guarda tutto ragazzi qua c'è un po la spiegazione anche di tutto il la beta in tutte le diciamo novità che hanno aggiunto e chiaramente questo gioco ragazzi uscirà se non erro il 4 il 5 ottobre adesso lo vediamo insieme e è chiaro che noi l'abbiamo disponibile all'interno del nostro pacchetto abbonamento play plus ragazzi chi ha l'abbonamento play plus io l'ho preso sta ancora diciamo in quella fase gratuita dal primo ottobre incominciano a scalare i primi 14 euro e 99 al mese appunto per per usufruire dell'abbonamento e devo dire la verità all'inizio non lo trovavo più qui dentro mi trovavo solo la beta ovviamente la beta poi è scaduta e non ve lo ritrovo più quindi sono andato a farmi un attimo un piccolo salto su ubisoft.com e sono andato a vedere che appunto presto disponibile ci sarà anche tom clancy's ghost recon break point ma la cosa importante ragazzi è che anche l'ultima edizione quindi l'ultima edizione a prezzo pieno sta 110 euro ragazzi e non è poco quindi avremo grazie all'abbonamento play plus appunto potremmo soffrire del gioco completo e non solo perché appunto qui ci dà l'accesso istantaneo e bonus digitali ci dà anche la sentina al corpo e gioca con tre giorni di anticipo rispetto a tutti gli altri cioè prima dell'uscita ufficiale dettata da ubisoft noi potremmo giocarci tre giorni prima e non solo ragazzi qui su istant gaming potete vedere ecco uscirà il 4 ottobre ragazzi per quanto riguarda la standard edition ci troviamo sotto i 50 euro sinceramente sì è un gioco comunque vale la pena acquistare questo è poco come sicuro magari non all'uscita diciamo un'altra cosa interessante ragazzi invece è call of duty appunto la beta è uscita ieri 19 settembre oggi 20 e instant gaming non ce l'ha vabbè non potete comunque recuperarlo e appunto che ci spiega un po vediamo un po i primi passi ecco di questo nuovo call of duty modern warfare vediamo un po di cosa si tratta il gioco verrà rilasciato cioè quello ufficiale il 25 ottobre 2019 quindi ragazzi a ottobre ci sono due grandi titoli costre con e call of duty e quindi io vi consiglio vivamente di tenere d'occhio questi due giochi ovviamente in base ai generi che vi piace quindi teneteli sotto controllo perché usciranno io direi e consiglierei a chi vuole già iniziare a provarlo almeno le beta ok ragazzi detto questo c'è un'altra cosa che volevo dirvi che non so se mi sfugge a ragazzi per quanto riguarda epic games ragazzi adesso vi faccio vedere vi dovete ricordare sempre che è già da molte settimane l'ho detto anche in alcuni video precedenti da molte settimane che epic games ci dà la possibilità di avere dei giochi davvero interessanti gratuiti ad esempio i giochi gratuiti dal 26 settembre quindi alla scadenza di batman lego trilogia e batman diciamo quello storico che noi conosciamo sempre trilogia dal 26 settembre al 3 ottobre ci sarà la possibilità di poter utilizzare poter usufruire di due giochi completamente gratuiti ragazzi che metro 20 33 redux redax che è un gioco chi ha fatto metro exodus conosce il tipo di gioco in cui stiamo parlando e poi everything che ovviamente ragazzo non giochi che devono piacere però comunque sono gratuiti ragazzi e chi se ne frega cioè importante che noi appunto ne possiamo usufruire in maniera completamente gratuita e va bene ragazzi quindi io mi fermerei qui e vi ho dato questa piccola infaniatura generale delle ultime novità che stanno uscendo qui su pc perché parliamo ragazzi di piattaforme pc quindi vi raccomando tutto quello che vi ho detto ragazzi è ovvio che dovete utilizzare le piattaforme quindi per poter scaricare ottenere il gioco gratis dovete comunque avere la piattaforma epic games così vale anche per uplay eccetera ok ragazzi quindi io se vi dico soltanto che se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati e noi ci vediamo qui con il prossimo appuntamento vi ricordo ragazzi che sul canale intanto sto portando due titoli davvero interessanti che the division 2 che cercherò di portarlo completo sia di missioni secondarie che principali e poi avrò anche la possibilità di poter portare già ci sarà già c'è un video caricato sul mio canale ci saranno altri video che invece riguardano for cry new down con modalità cooperativa quindi giocherò insieme un amico e cercheremo di portare avanti l'intera storia di for cry da infiniti games è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti